benvenuti su clodiomasci.com in questo video vi voglio parlare di un'app che vi permetterà di guadagnare solamente giocando con il vostro smartphone quest'app al momento è disponibile solo per android tra un po' andremo a vedere come funziona praticamente quello che dovremo fare è scaricare quest'app al suo interno ci sono diversi giochi, diversi link diciamo a giochi che poi potremo scaricare a parte e giocando a questi giochi accumuleremo dei punti che possiamo poi tramite l'app convertire in soldi e quindi andarli a riscattare andiamo a vedere come funziona ho avviato l'app possiamo vedere già che attualmente ho monete lealtà 0 che sono i punti che vengono accumulati e ho 45 centesimi che posso andare ad incassare quindi nei giochi che ho fatto finora ho accumulato 45 centesimi in basso possiamo vedere intanto c'è una barra con l'obiettivo quindi raggiungendo l'obiettivo possiamo convertire le monete lealtà in monete reali che poi possiamo andare ad incassare in basso abbiamo l'elenco di tutti i giochi che possiamo utilizzare il primo Trasor Master è quello che ci dà più punti per giocare quindi è quello che effettivamente ci permette di guadagnare di più ci sono giochi diversi quindi per tutti i gusti e diciamo la maggior parte sono veramente casual game cioè è difficile che troverete comunque avventure o giochi più complessi sono quasi tutti casual game o giochi molto molto semplici in più ci sono due possibilità extra per guadagnare la prima è guardando video e si ottengono subito 2000 monete quindi basterà toccare la voce guarda un video alla fine del video torneremo all'app vediamo che abbiamo guadagnato 2000 monete e dovremo aspettare due minuti per poterne guardare un altro quindi praticamente ogni due minuti possiamo guardare un video e accumulare in questo modo monete ovviamente è un metodo che ci permette di guadagnarne veramente poche ed è credo almeno a mio avviso è molto molto noioso guadagniamo poco e è lungo riuscire a raggiungere l'obiettivo che vediamo sulla barra un altro metodo è completare le offerte quindi se tocchiamo la voce completa le offerte qui ci sono diverse offerte extra per poter guadagnare maggiormente ad esempio quella che sto provando al momento è guadagnare punti extra giocando a dragonscape adventure in questo caso abbiamo delle monete quindi raggiungendo il livello 7 ad esempio si prendono le prime monete poi ovviamente vi consigliano di fare degli acquisti per guadagnare altre monete questi si possono ovviamente ignorare a livello 15 si guadagnano 41.000 monete a livello 20 73.000 quindi comunque riusciamo ad ottenere un buon punteggio torniamo indietro altrimenti ci basterà giocare semplicemente a questi giochi e il tempo dedicato a questi giochi ci permette di ottenere monete lealtà quindi questi non dobbiamo raggiungere nessun obiettivo particolare ci basterà semplicemente giocare e dedicare tempo a questi giochi ultima cosa prima poi di dirvi le mie impressioni se andiamo sulle mie ricompense possiamo vedere io già ho riscattato un buono amazon da 91 centesimi e al momento tra i 91 centesimi e i 45 che non ho ancora incassato ho totalizzato un totale di 1,36 euro vi posso dire che effettivamente quest'app paga quindi non dovete raggiungere un totale minimo per poter incassare andiamo su incassa e vediamo quindi ogni 3 ore i punti vengono convertiti quindi al momento ho 45 centesimi più 2000 punti tra 2 ore e 43 quei 2000 punti verranno convertiti posso toccare la voce in cassa e scegliere in che modo l'unico che ha un limite è paypal in quel caso devo raggiungere un saldo minimo di 2 euro per tutti gli altri ad esempio per il buono regalo amazon non ho limiti quindi posso anche prendere un buono regalo da 45 centesimi ok vi ho parlato degli aspetti positivi quindi l'app funziona vi paga i pagamenti sono abbastanza rapidi anche cioè vi basterà toccare la voce in cassa la cosa che non mi è piaciuta molto è che quando scegliete il metodo vi chiede l'indirizzo email ad esempio io ho scelto amazon mi chiede l'indirizzo email con cui sono iscritto su amazon nome e cognome il mio indirizzo di casa e in più fa una scansione del volto non so per quale motivo quindi dopo aver fatto tutte queste operazioni ci arriverà un email con un link dovremo andare su quel link su quel sito web ci sarà il codice da utilizzare poi su amazon quindi possiamo copiare quel codice andiamo su amazon buoni amazon lo inseriamo e possiamo riscattare il codice quindi il percorso non è proprio semplicissimo cioè è semplice però a mio avviso chiedono troppe informazioni questo è il primo aspetto negativo che non mi è molto chiaro cioè non capisco che bisogno ci sia di avere tutte queste informazioni che bisogno ci sia di effettuare una scansione del viso e ok questo è il primo aspetto che non mi è piaciuto molto passiamo ora ai guadagni veri e propri quindi a quanto si guadagna io non gioco molto devo dire non passo ovviamente l'intera giornata a giocare ai giochi presenti in just play quindi i guadagni non sono altissimi credo di averci giocato forse mezz'ora per aver guadagnato 45 centesimi probabilmente giocandoci 2-3 ore si riescono a raggiungere anche 2-3 euro seguendo anche guardando anche i video magari si può arrivare a raggiungere 2-3 euro al giorno non ve lo so dire sicuramente per poterli raggiungere comunque dovrete dedicarci tanto tempo i guadagni non sono altissimi quindi dovrete giocare molto per raggiungere punteggi alti all'inizio ho raggiunto i 90 centesimi anche perché la prima volta che avviate l'app vi dà già delle monete lealtà iniziali mi sembra ve ne regalano 20.000 inizialmente quindi comunque partite già da una buona base quello che c'è da dire è che c'è nei giochi tantissima pubblicità quindi tutti i giochi presenti in questo elenco sono pieni zeppi di pubblicità cioè veramente ogni 2-3 livelli parte una pubblicità vi farò vedere treasure master giusto per vederne uno così vediamo come funziona quindi abbiamo treasure master io l'ho già ovviamente scaricato quindi tocco gioca e guadagna qui ci dice sconfiggi i mostri per le monete fedeltà quindi dobbiamo semplicemente giocare e guadagnare quindi avviamo il gioco questo gioco è molto semplice tocchiamo play dobbiamo semplicemente lanciare delle frecce su queste sfere che girano cercando di non colpire le frecce già presenti ok in questo caso ho colpito una freccia al momento non c'è ancora una pubblicità quindi continuiamo a giocare così vi farò anche vedere la differenza di punti cioè quanti punti ho ottenuto giocando ora c'è il boss ok niente ho perso di nuovo ora ci dovrebbe essere la prima pubblicità quindi la prima interruzione pubblicitaria ovviamente possiamo saltarle quindi farò un altro giro quindi finché non sbaglio di nuovo ok ho subito sbagliato anzi facciamo fino alla prossima pubblicità diciamo generalmente sbaglio un po' meno ma adesso ho l'asta del microfono davanti quindi non vedo lo schermo ok ecco la pubblicità quindi ho giocato circa 3 minuti e in 3 minuti mi ha dato 13.000 monete perché 2.000 le avevo già per aver visto il video di youtube che intanto ritorna visualizzabile quindi posso andare a vedere scusate non il video di youtube un video pubblicitario che è tornato visualizzabile quindi posso guardare un altro video e ora tra due minuti ne potrei volendo guardare un altro un aspetto importante è che ovviamente i video all'interno dei giochi quindi le pubblicità all'interno dei giochi le possiamo saltare quindi nel momento in cui credo dopo 5 secondi possiamo saltare e continuare a giocare se scegliamo guarda un video dobbiamo guardare per intero il video altrimenti non ci vengono accreditate le monete vediamo che al momento la barra sta aumentando quindi nel momento in cui raggiungerà il simbolo del dollaro raggiungerò il primo obiettivo delle monete e lealtà altrimenti posso proseguire fino agli obiettivi successivi ovviamente più gioco, più seguo gli obiettivi più punti ottengo vi metterò il link per scaricare JustPlay sul mio sito web quindi se siete da youtube andate in descrizione link articolo e troverete l'articolo sul mio sito web non saprei dirvi se ve lo consiglio ovviamente non è un metodo per guadagnare tanti soldi quindi sicuramente vi permette di avere dei buoni amazon ma veramente o avete tanto tempo per giocare quindi se passate molto tempo a giocare a questo tipo di giochi sullo smartphone probabilmente guadagnarci anche potrebbe essere un extra quindi ad esempio se giocate a giochi tipo Candy Crush in questo caso c'è Sugar Rush che è simile c'è il solitario ci sono diversi tipi di giochi Bubble Pop se giocate a giochi di questo genere e dedicate molto tempo a questo tipo di gioco potrebbe essere un valore in più guadagnarci anche qualche centesimo ovviamente vi ripeto parliamo di centesimi quindi non vi aspettate di riuscire a raggiungere 10, 20, 30 euro al giorno è credo assolutamente impossibile a meno che non passiate 24 ore della giornata a giocare e anche in quel caso non credo che riusciate a guadagnare così tanto ci sono anche altre app simili a Just Play io vi ho parlato di Just Play per il semplice fatto che tra quelle che mi sono uscite nelle pubblicità è quella che mi ha ispirato maggiore fiducia la pubblicità era realizzata meglio sembrava effettivamente seria quindi ho deciso di provarla ho detto facciamo una prova vediamo come va effettivamente pagano ovviamente dovete dedicare il tempo dovrete vedere tantissime pubblicità qualche video fa vi ho fatto vedere un modo per bloccare le pubblicità nei giochi quindi se scorrete un po' indietro c'è un metodo per bloccare le pubblicità non vi saprei dire non l'ho provato quindi non vi so dire se effettivamente bloccando le pubblicità venite pagati lo stesso quindi è un test che non ho fatto quindi probabilmente bloccando le pubblicità non riceverete le monete di lealtà ma non ne sono sicuro quindi è una prova che potete fare magari fate una prova per qualche minuto vedete se raccogliete monete lealtà e in quel caso potete bloccare le pubblicità e poter giocare tranquillamente senza vedere continuamente spot pubblicitari di altri giochi o comunque di altre app quindi per questo video è tutto se il video ti è piaciuto metti like in questo modo mi aiuti a capire quali sono gli argomenti che vi interessano maggiormente inoltre se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella così non perderai tutti i miei prossimi video ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine come sempre per qualsiasi dubbio, domanda o suggerimento puoi scrivermi nei commenti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao